e sono qui in compagnia di Franca Terzano di TaylorMade Tours e poi c'è anche la regina Elisabetta benvenuta su MediHotelRadio ma guarda ci ha fatto un onore incredibile di venire qui a Napoli per la prima volta quindi noi siamo contenti perché possiamo pubblicizzare anche questa destinazione noi facciamo effettivamente il fatto su misura cioè tour, programmi, itinerari tutti a seconda delle esigenze, le aspettative dei nostri viaggiatori. Una bellissima idea, come vi è venuta? Ma ci è venuta perché volevamo fare qualcosa di diverso, cioè i programmi che si vendono su questa destinazione sono tutti molto uguali, noi cerchiamo di fare qualcosa di un po' diverso e questo ci rende anche più piacevole il lavoro perché abbiamo sempre qualcosa da scoprire anche noi, qualcosa di nuovo tenendoci al passo con i tempi. Perché un viaggiatore dovrebbe scegliere United Kingdom, il Regno Unito, Londra? Perché è diverso, perché viaggiare per trovare qualcosa che somiglia a casa non è mai divertente invece viaggiare per trovare qualcosa di diverso, qualcosa che non ci aspettiamo, qualcosa che non possiamo paragonare a quello che abbiamo a casa. Ecco, questo è il trucco diciamo del viaggiare in qualunque destinazione, dico. Io sono un po' di parte perché ho fatto il weekend del mio compleanno a Londra, grazie! Grazie a voi, grazie a mille!